L'Ultimo dei Moicani, arrangiamento di Davide Boaio. L'Ultimo dei Moicani è l'ennesima transposizione cinematografica del romanzo di James Fennell Cooper e di sicuro l'opera più conosciuta del grande pubblico. La vicenda inserita nel contesto storico della guerra anglo-francese del 1757 per il possesso coloniale del nuovo mondo ruota intorno alla figura di Nathaniel Hawking, regista del film Michael Mann. Le stupende musiche, composte da Trevor Jones e Randy Edelman, hanno un commento sonoro di rara efficacia e l'odevole incisività che esalta tanto il tono drammatico, tanto quello epico e romantico della pellicola. Senza tale intenso soundtrack il film non sarebbe lo stesso. Il Corpo Bandistico Città di Lendinara vi propone questo arrangiamento di Davide Boaio di indiscutibile forza ed espressività. A voi, l'Ultimo dei Moicani. Grazie. 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 Grazie a tutti.